Buonasera a tutti, io sarò abbastanza veloce perché tutte le premesse che fondano questa proposta progettuale che vi presentiamo sono già state esplicitate nelle relazioni, quindi a me aspetta il compito di richiamare alcuni titoli e di collegarli al lavoro che stiamo facendo. Parto raccontandomi come nasce questo percorso progettuale che ormai ha diversi mesi, è partito la primavera dell'anno scorso, la tarda primavera dell'anno scorso ed è nato dentro una riunione che discuteva d'altro, che discuteva di turismo sostenibile, in quel tavolo c'erano alcune persone, ognuna con le proprie competenze e una prima persona molto come dire, grande esperto di sistemi idrici, prossimo alla pensione peraltro, ci spiegava che ci diceva guardate che qui piove sempre di più, in questo territorio alto vicentino, l'acqua corre a valle e mette in difficoltà la pianura, se non ve la tenete non ve ne veniamo fuori. A quel tavolo c'era una seconda persona di professione coltivatore diretto che ha sgranato gli occhi e ha detto c'è più acqua, davvero, dove, quando, a Natale forse, perché noi d'estate non riusciamo più a irrigare i campi, siamo in difficoltà, non ce la facciamo. Da questa apparente contraddizione è nato un percorso che ha via via coinvolto i soggetti che oggi avete sentito parlare e che ha deciso di costruire una proposta progettuale da presentare nell'ambito di un bando europeo. Li richiamo, li avete già sentiti parlare, due comuni del territorio, il comune di Sant'Orso e il comune di Marano Vicentino e una serie di soggetti che esprimono competenze diverse, il Veneto Agricoltura, il Centro Idrico di Novo Ledo, il Consorzio di Bonifica Alta Pienura Veneta, l'Università come il Dipartimento Tesaf, l'Associazione Cirfa e la Coldiretti. Questi soggetti alcuni mesi fa hanno iniziato a trovarsi e hanno iniziato a discutere i temi che oggi avete sentito approfondire, partendo da alcune premesse che fondano poi la proposta progettuale e che oggi abbiamo già visto approfonditamente. Innanzitutto i cambiamenti climatici che ormai viviamo anche in maniera molto concreta, estati piovose, inverni più o meno caldini, grandi precipitazioni eccetera eccetera. Poi l'urbanizzazione del territorio, qualche slide ci ha mostrato come è cambiato questo territorio, del resto il Veneto dove noi anche viviamo è stato definito da più di qualcuno il territorio in cui c'è una zona industriale per ciascun campanile. Poi appunto la concentrazione delle precipitazioni, se un tempo stessi quantitativi d'acqua magari cadevano in un periodo più lungo, oggi capita che in poche ore noi abbiamo grandissime quantità d'acqua che piovono e che scendono a valle, anche questo è un tema che abbiamo visto. Infine la cementificazione, l'abbandono dei boschi, la riduzione del terreno agricolo e via via tutto quello che abbiamo affrontato stasera. Queste sono le premesse che fondano questo progetto ma sono anche le premesse di questa foto che molti di voi probabilmente riconoscono, è Vicenza il primo novembre del 2010, la giuvione che è stata citata tante volte ma che per chi vive a Vicenza o nei comuni di Mitrofi non è una foto, è un ricordo ma è l'inizio di una storia in cui le allarmi per la giuvione, il timore di nuovi allagamenti sono diventate un qualcosa di costante e di stagionale, arriva l'autunno e probabilmente arriverà l'allarme a giuvione. A partire da questo ci siamo domandati che obiettivo possiamo darci noi che invece stiamo in un territorio più a monte e stiamo nella zona dell'Alto Vicentino. Chiaramente non è quello di fare la parchetta, non facciamo l'arca di Noè, l'obiettivo che ci siamo dati e ve lo leggo è avviare attività pilota di adattamento al cambiamento climatico attraverso il trattenimento delle acque pluviali in territori di montagna e collina e la conseguente salvaguardia delle aree di pianura da fenomeni alluvionali. In altre parole stiamo dicendo quello che alcuni relatori hanno già approfondito e cioè proviamo a fermare l'acqua laddove essa cade, a rallentarla, a trattenerla per garantire a chi vive più a valle maggiore tranquillità e maggiore sicurezza. Si tratta, lo accennava Giustino Mezzadira mezz'ora fa, di un progetto pilota, significa che non metteremo in sicurezza il territorio in maniera definitiva, proveremo a sperimentare delle idee, delle proposte, delle progettualità che sembrano essere intelligenti, che pensiamo possono essere intelligenti per verificare gli effetti che queste proposte hanno, per dimostrare in qualche maniera che ci sono delle modalità per affrontare queste questioni e per mettere in sicurezza il territorio e per dire al resto del territorio italiano e più in generale dell'Europa, guardate che questi problemi, queste questioni si possono risolvere facendo queste cose, investendo su questi strumenti, facendo questo tipo di iniziative. Tutto ciò lo vogliamo provare a fare dentro a un programma europeo che molti di voi conoscono, che è il programma LIFE, è il programma con cui l'Unione Europea sostiene le politiche ambientali, sostiene i progetti più innovativi nel campo delle politiche ambientali e quindi permette anche di ragionare sui temi che oggi stiamo affrontando. Qual è l'idea di base che sta intorno a questo progetto? È ognuno di noi che sia singolo cittadino, famiglia, che sia impresa, che sia agricoltore, che sia istituzione, può avere un ruolo in questa sfida. In qualche riunione Giustino Mezzadira ha definito questo progetto il PAES dell'acqua, laddove il PAES per l'Europa è il piano d'azione per l'energia sostenibile che prevede azioni a qualunque livello, dalla singola famiglia alla grande impresa, all'istituzione. Questo progetto a sua volta ha l'ambizione di essere uno strumento che sappia coinvolgere tutti, quindi con una mobilitazione delle comunità locali, delle forze economiche, delle forze istituzionali che attraversano una comunità, proprio con l'obiettivo comune di tutelare il territorio e di metterlo in sicurezza. Quali sono le azioni? Ve le elenco e poi le approfondiamo. Stiamo lavorando su tre filoni progettuali. Il primo è appunto la comunità locale, cioè cosa posso fare io che abito qui, che ho la mia casetta, che giro con la mia macchina, che faccio la mia vita quotidiana. Due, cosa si può fare nel campo dei terreni agricoli? forestali, tema che oggi abbiamo affrontato a lungo. Tre, cosa possiamo fare per i corsi d'acqua e per le modalità con cui l'acqua poi scorre a valle. La prima azione appunto riguarda la comunità locale e su questo noi vorremmo costruire intanto degli strumenti ed è, potete capirlo, fondamentale, di sensibilizzazione e formazione dei cittadini, cioè abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che queste cose vanno fatto. Poi vorremmo fare degli interventi dimostrativi su edifici pubblici. Stasera abbiamo visto che qualcuno si porta l'acqua in casa per trattenerla, no? C'è stato mostrato. Noi vorremmo provare a fare degli interventi che dicano ciascun edificio potrebbe fare questo per mitigare le conseguenze del dissesto idrogeologico. E poi vorremmo ragionare sui regolamenti comunali, cioè cosa possiamo fare per fare in modo che costruiamo in maniera adeguata, che ristrutturiamo in maniera adeguata queste sfide. Il secondo tema riguarda il territorio in questo caso, in particolare agricoltura e gestione dei boschi che in questa zona, nell'Alto Vicentino, coprono comunque una superficie importante. Per quanto riguarda i boschi, quello che noi vorremmo provare a costruire è una filiera di uso del legno. In altre parole vorremmo trovare gli strumenti e le modalità per fare in modo che diventi conveniente ai tanti proprietari di boschi mantenere puliti i propri appezzamenti, tutti valorizzarli, sistemarli e quindi farli diventare anche strumento di mitigazione delle conseguenze delle piogge. Sulla parte legata all'agricoltura invece vorremmo lavorare per raggiungere una migliore gestione degli appezzamenti agricoli. Ci raccontava qualcuno che fino a qualche anno fa i grandi appezzamenti agricoli per esempio avevano una loro piccola vasca di raccolta dell'acqua piovana che gli serviva per irrigare, ma questa ha anche una funzione nel suo piccolo di trattenimento delle piogge e poi i fossi, i filari degli alberi, il tipo di coltivazione che si fa in quel terreno. Tutto ciò non solo nell'ottica di dire attenzione c'è un problema, Vicenza va sott'acqua, Vicentino va sott'acqua, quindi signori agricoltori prendetevi la vostra responsabilità, ma anche con l'obiettivo di dire è possibile a partire da queste problematiche girare la moneta e in qualche modo valorizzare l'agricoltura anche come soggetto che abbia una funzione turistica nel territorio e quindi l'azienda si fa bella con i filari di alberi, con i fossi ben tenuti eccetera, ha una ricaduta diretta sulla dinamica idrica del territorio, ma può avere anche una ricaduta diretta sulla capacità di quell'azienda di diventare punto di riferimento per chi vuole farsi un giro in campagna. Infine la realizzazione anche in questo caso, perché riteniamo che questi siano soggetti particolarmente importanti di questo progetto, di percorsi formativi mirati. La terza azione è se vogliamo quella più pilota e più dimostrativa tra tutte quante e parte appunto dalle considerazioni che vi dicevo all'inizio, cioè serve, è necessario cercare di fermare l'acqua. La proposta su cui noi stiamo lavorando è quella di fare un intervento pilota che possa dimostrare l'efficacia, la capacità di intervenire in questo senso di micro bacini di raccolta dell'acqua in aree montane e pedemontane, quindi nei nostri territori. Però il nodo su cui subito ci siamo fermati e abbiamo voluto discutere è che questi bacini non possono essere semplicemente delle vasche che trattengono l'acqua, ma devono dare dei benefici diretti anche alle comunità che intorno a quei bacini ci vivono. E quindi ci stiamo domandando, è possibile metterli a disposizione dell'agricoltura per irrigare? È possibile farci delle piccole attività di carattere turistico? È possibile farci della produzione di energia elettrica? Ci stiamo domandando cosa, fatto il bacino, possiamo fare perché quello diventi un luogo importante del territorio vissuto che dia dei vantaggi anche a questo territorio. Legato a questo c'è anche la proposta di sperimentare differenti sistemi agricoli, scusate, di irrigazione agricola per poi poterli comparare, per poi capire quale da fatti, salvi gli obiettivi che abbiamo citato, i migliori risultati. E infine vorremmo provare a capire, ad approfondire, a studiare il rapporto che c'è tra corso d'acqua e territorio e, come è stato fatto, l'abbiamo visto già in altri territori, anche qui provare a sperimentare la rinaturalizzazione e l'allargamento di un alveo. Questi sono i temi su cui abbiamo iniziato a lavorare, la serata di oggi è un momento importante per fissare alcuni contenuti. Ovviamente si tratta di un progetto che non casca lì nel vuoto, ma che si inserisce in altre cose più ampie, innanzitutto il piano d'azione per l'energia sostenibile, che molti di voi conosceranno, quello di Sant'Orso lo potete consultare in internet, altri comuni l'hanno adottato e poi sapete che da alcuni mesi la Commissione europea ha adottato un nuovo documento che propone agli enti locali, che è il piano di l'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi dentro a una strategia più ampia che punta a affrontare questi temi e punta a affrontare queste questioni in maniera sinergica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!